Basta eh, ho deciso, adesso lo blocco, lo blocco su whatsapp, blocco i messaggi, anche le chiamate Esagerata dai, su, anzi quasi quasi lo blocco anche su facebook, senti un attimo, una volta che l'ho bloccato su facebook, ma se lo incontro per strada lo vedo Oh signore, vabbè ma che ho detto, nati Ciao